Social Podcasting. Your Digital Friends. Le poesie di Alma. Amiche e amici di Social Podcasting, sono Luca Gamberini e di Gualtiero Via vi leggerò l'inedito dal titolo Ascolta la Risacca. Ascolta la Risacca verso sera, magari dopo che ha fatto burrasca, oppure su in città all'orario giusto, fatta giornata, trovate un locale, un posto dove passino persone per stare insieme, bere, fare incontri. Ascolta la Risacca, sta in silenzio. È stata la giornata, bella o brutta, eppure a molti un senso ancora manca. Perché? Chi lo può dire? Dici è strano? L'hai avuti o no, tu pure diciotto anni? È l'energia che cambia verso sera. La luce, l'aria, prova. Tutto quanto. Per non dir della notte. E cosa nota? Che cosa? Non si sa. Si sa che esiste. Lo cerchi fuori o dentro? In un bicchiere? Lo so, c'è chi si ammazza in questo modo, ma la risposta è non cercare nulla. Il vino è un vero dono, è meraviglia, e chi lo demonizza è un criminale. Ascolta la Risacca verso sera, può tutto il mare, imparalo a sentire. Respira, apri i polmoni, non mentire. Racconta quello che oggi ti è successo. Ascolta quell'amico, offri da bere. Non credere sia vana a ogni cosa, non credere sia antesoe da trovare. È il modo tuo, il tuo tono, il giusto verso. Se con sincerità tu cerchi questo, non un minuto tuo dirai che è perso. Social Podcasting Your Digital Friends